Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenute in questo nuovissimo video shopping. Oggi uno shopping completamente per il mare, ecco, per il mare. Abbiamo costumi, scarpe per il mare, prendisole eccetera eccetera eccetera, ma lo vedrete nel video. Se vi va di supportarci, seguiteci sia qui su YouTube che su Instagram, vi aspettiamo in tanti e ora passiamo al video. Oggi ho l'estivo, ho diverse cosine anche di diverse aziende. Il brand Aromic mi ha inviato un pochino di novità del loro sito ed è un sito prettamente che vende borse e scarpe. Ho preso i best seller, i sandali che si portano tantissimo qui stanno di moda e qualche sneakers. Tra l'altro i loro prezzi sono veramente molto molto bassi, vi lascio sotto nell'info box i link. E inoltre è un codice sconto del 18%. Al checkout basta scrivere Miriana, non è un codice affiliato, quindi io non ci guadagno nulla. E vi faccio vedere appunto che cosa ho scelto io. I primi sandali sono questi qui, sono bellissimi. Fatte tra l'altro molto molto bene. Gli ho preso una size 40 e mi vanno perfetti. Sono bassissimi e sul davanti appunto la particolarità è questa catena. Ci sono diverse colorazioni e infatti le ho prese identiche anche in nero. Sempre taglia 40, la taglia 40 calza giusta. Ah, i tempi di spedizione mi dimenticavo. Circa due settimane, quindi siamo più o meno sui tempi di spedizione di Shein. Il pacco è arrivato super imballato, bene, quindi top. Non c'è la dogana. E questo qua appunto è il sandalo nero. Il nero secondo me risalta molto di più sul piede, anche se non ho ancora i piedi abbronzati. Anche l'azzurro secondo me fa il suo effetto. Io le immagino sia per andare al mare ma anche per uscire. Sono comodissime e non pensavo perché il modello ciabattina è molto così. Cioè io non comprerei tacchi a modello ciabattina, però dopo aver provato queste forse le comprerei. Fatemi sapere sotto nei commenti se voi avete dei tacchi a ciabattina. Io non so se comprarli. Ce ne sono alcuni di Zara che mi piacciono tantissimo, ma ho paura che mi spuggono. Però le ciabattine così basse sono comode, quindi boh. E questi mi sa che il prezzo era di 11-12 euro. Veramente pochissimo, veramente pochissimo. Sempre ciabattine. Queste qui le ho pensate principalmente per quando andrò in Sicilia al mare. Ho preso queste qui. Sono plastificate, a differenza di queste invece che sono proprio finta pelle. Questo è il materiale da vicino. Ho preso anche qui un 40. Le catenine sul davanti sono dello stesso materiale. E l'effetto sul piede di queste sono veramente, veramente molto belle. Non vi faccio il close up, però dopo a fine video vi faccio vedere i costumi indossati, perché c'è anche l'all dei costumi. E ve le faccio vedere indossate anche queste, non close up. E di queste c'erano diverse colorazioni, bianche, nere e beige. Io le ho prese beige perché ho tantissimi camisoni bianchi. Ho preso diverse cose bianche, dopo le vedrete. E il bianco con bianco, troppo bianco, quindi ho detto, vabbè, beige, le posso mettere anche su altre cose. Anche se tornassi indietro le prenderei anche bianche. Perché sono molto molto belle, molto. Dopodiché ho preso due paia di sneakers identiche ma di colori differenti. E sono queste qui. Allora, nelle prime sono completamente bianche. Sembrano le balenziaga ma non costano quanto le balenziaga. Mi sa che costano 25 euro, se non sbaglio, forse anche meno. E comunque avete il mio codice sconto se siete interessate. Sul davanti sono così. Hanno la sua l'abbastanza alta. E l'altro colore, invece, è un panna con un grigio. Anche queste mi piacciono tantissimo. Indossate sulla modella. Non ho niente, tra l'altro, di grigio. E lo immaginate con le tute grigie, ecco. Non le ho neanche provate. Cioè, ho provato soltanto questa. Ho preso un 40. Mi va. E quindi non ho provato ancora questa. Ho detto, vabbè, ve le faccio vedere prima e poi le utilizzo per uscire. Il materiale è abbastanza rigido. Quindi, se vi devo dare un consiglio, tra le sneakers e le ciabattine, io ho preferito le ciabattine. Sono molto sincera, nonostante costano meno. Però, il materiale di questo non mi convince proprio del tutto. E questa era la sezione scarpe. Passiamo poi alla sezione costumi e prendisole. Perché questo è un video completamente estivo. E parliamo del brand Beach Sissi, che vende solo costumi e prendisole. Ecco, non c'è altro. Quindi due negozi che insieme fanno l'estate. E ho preso tre costumi e due prendisole. Allora, devo essere sincera, le ho provate i costumi e non mi fanno impazzire. Non mi fanno assolutamente impazzire. Questo arancione mi piaceva tantissimo. Ve lo faccio vedere. Ha la mutandina regolabile. Queste non le avevo mai provate. Però non mi dispiace come mi sta. Sul retro potete tenerla sia un pochino più a brasiliana che più stretta. Cioè, decidete voi come farla. Mentre la parte superiore, secondo me, sulla tipologia del mio seno, comunque un seno piccolo, non è che sta chissà quanto bene. Ed è così. Aspettate. In questo modo. Vabbè, comunque, in ogni caso vedrete il close-up perché ve li faccio vedere indossati. E non mi dispiace il colore perché il colore è molto molto bello. Il tessuto è fatto benissimo. Veramente è molto molto bello. L'ho un pochino più acceso rispetto alla camera. Però, ditemi voi sotto nei commenti come mi sta. Ma io non sono convinta. Il secondo mi piace come fantasia, ma non mi piace come mi sta. Ed è questo qui che ha praticamente il double face. All'interno è tutto leopardato. Sì, è leopardato. Che cos'è? Sì. E all'esterno invece ha questi fiorellini con la base bianca. i fiocchetti regolabili. L'unica cosa che non mi convince è che sul retro il taglio è classico. Io sono più abituata alle brasiliane. Il pezzo superiore invece è appunto un classico triangolino senza imbottitura. E dietro anche lui è un double face. Questo mi piace molto come è fatto. Però, il sotto, non lo so. perché poi quando sei abituato a metterti una tipologia di costume è difficile anche uscire dalla tua comfort zone. Tra l'altro sulla modella sembrava molto più piccolo e per questo le ho presi. Come prendisole invece ho scelto lui che è stupendo, meraviglioso. Ecco, i prendisole ve li straconsiglio. È un camicione che ha un sottotono lilla. Vedete, non è bianco. Non è bianco per niente. Ed è trasparente. È in manica lunga. bellissima. In realtà potete anche vi faccio vedere. Vedete? Ha il cosino per arricciare la manica. A me non piace. Mi piace liscia. Ed è un camicione con tutti i bottoni veri sul davanti. Bellissimo. Questo è stupendo. È one size. Quindi non ci sono tagli. Mentre i costumi ho preso tutte M. Mi conoscete. Di questo c'erano diverse colorazioni. Mi sa che c'era anche nero in giallo e rosso. c'erano tantissimi colori. Io ho preso questo perché è molto particolare e poi in estate abbronzata chiaro mi piace sempre. E per lo stesso motivo ho preso un altro prendisole bianco. Questo è super sexy. Tutto traforato. Ha il laccetto in vita per stringere e uno spacco alla bellezza. È un prendisole tra l'altro allonghetta che non avevo nel mio armadio quindi sono contentissima di averlo preso. Questo anche c'era in nero però ne ho preso uno su Fashion Nova nero quindi ho detto vabbè prendiamolo bianco e sono rimasta super soddisfatta. anche il tessuto è bellissimo vedete proprio maglina bellissimo troppo bello i prendisole sono super super promossi e vi faccio vedere l'ultimo costume che a me va piccolo perché mi stringe sui fianchi allora sul davanti si chiude fa l'intreccio comunque lo vedrete la fantasia è bellissima con le spalline nere regolabili sul retro la chiusura sul retro è con la clip mentre sul davanti c'è questo incrocio lungo e si fa il doppio fiocchetto dietro e il sotto è una classica un classico slip quindi neanche questa è brasiliana non ci sono brasiliane ecco quello che abbiamo capito è che su questo sito non ci sono brasiliane e questa qui con il righino nero retro è così proprio classica classica mutandina e questa mi stringe tantissimo mi stringe veramente tanto nonostante è una M sì quindi per me i costumi non ne valgono la pena fatemi sapere sotto nei commenti se vi sono piaciuti che cosa ne pensate voi e questo era tutto fateci sapere la vostra opinione sotto nei commenti come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di attivare la campanellina per non perdervi i nostri video se vi va seguiteci anche su instagram dove siamo attivissimi vi mandiamo un forte bacio e ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi ciao ragazze ti sei svegliato boh ti sei svegliato non vuoi andare al mare hai paura della prova costume ma tu sei sempre splendido ciao 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 Grazie a tutti.